Ok, questo è il quarto esercizio, guardate che assomiglia molto il primo esercizio, nel senso che ci chiede di prendere due liste e andare a fondere queste due liste. C'è soltanto una differenza, in questo quarto esercizio ci dicono che quelle due liste si deve fare il merge, ma restituendo una nuova lista ordinata, quindi non è prendere il primo elemento della prima lista, il primo della seconda, il secondo della prima, il secondo della seconda e così via, ma dobbiamo andare a, prima di aggiungere un nuovo elemento, dobbiamo andare a chiedere qual è l'elemento più piccolo tra le due liste e aggiungiamo quell'elemento minore dalle due liste. Quindi alla fine si fa il merge, ma si fa aggiungendo gli elementi in ordine. E no, si può utilizzare il metodo sort. E ci dicono anche che le liste di partenza non devono essere modificate e che possiamo supporre che siano già ordinate le liste di partenza, quelle che entrano come parametro. Quindi questo sarebbe un esempio, guardate che le due liste, quelle che ci danno come parametro, sono già in ordine, quindi 1, 4, 9, 16 e poi 4, 7, 9, 9, 11. Quindi entrambe le liste sono in ordine e anche quella che dobbiamo restituire noi come risposta dovrà essere una lista ordinata. Allora, quello che vi dicevo prima, guardate che in questo caso non è come prima che semplicemente dicevamo, allora il primo è la prima, il primo è la seconda, il secondo è la prima, il secondo è la seconda, è così a caso, ma ogni volta prima di aggiungere un elemento dobbiamo chiederci ma questo è il minore, il primo elemento di questa lista è inferiore al minore al primo elemento della seconda lista? Se questo è il minore allora viene aggiunto questo, giusto? E poi dobbiamo andare a fare il confronto tra questi due elementi. Allora, questo cosa vuol dire a livello, diciamolo così, concettuale? Vuol dire che a me interessa... Allora, guardate che nell'esercizio numero 1 a noi serviva soltanto un indice giusto perché comunque prendevamo l'elemento che c'era nella posizione 0 della lista 1 e nella posizione 0 della lista 2 e li aggiungevamo uno dopo l'altro, subito. In questo caso non è la stessa cosa perché guardate che facciamo l'esempio con questa lista. Io all'inizio mi fermo nella posizione 0 nelle due liste, giusto? Parto qua dall'inizio, sia nella lista corta che nella lista lunga. Poi il primo elemento della lista corta è... Allora, 1 è minore di 4, ovviamente, quindi viene aggiunto 1 nel mio risultato. Ho aggiunto già questo e mi fermo in questa posizione qua. Qua invece non ho aggiunto ancora nessun elemento. Ho aggiunto un elemento della prima lista ma non ho ancora aggiunto nessun elemento della seconda lista. Quindi la mia posizione è ancora questa, capito? Poi diciamo che io faccio la domanda se questo elemento è minore o uguale. Allora, aggiungo 4. Guardate che viene aggiunto 4. Io ho già aggiunto due elementi della prima lista, è la lista corta, e non ho ancora aggiunto nessun elemento della lista lunga. Quindi qua posso avanzare una posizione, mentre qua sono ancora fermo alla posizione 0, perché non ho aggiunto nessun elemento di questa lista. Poi, ovviamente, quando faccio questo confronto, scopro che questo è il prossimo elemento da aggiungere, la aggiungo qui e solo fino a questo punto posso espostarmi in una posizione nella lista lunga, capito? Per questo motivo, in questo esercizio, dobbiamo tenere traccia, dobbiamo salvare, memorizzare in due variabili la posizione in cui mi trovo nella lista A e nella lista B. Diciamo che per questo esercizio non ci interessa così tanto la lunghezza, perché guardate che, come andremo a capire un po' più avanti, guardate che, ad esempio, noi andremo ad aggiungere tutti gli elementi della lista lunga prima di aggiungere tutti gli elementi della lista corta, capito? Perché guardate che l'elemento più grande di questa lista sarà l'11, mentre l'elemento più grande di questa lista è il 16. Quindi non è come prima che eravamo sicuri che avremmo finito prima la lista corta. Qua non sappiamo, non si sa dall'inizio quale lista viene aggiunta prima. Quindi, bene, diciamo che si chiama ancora lista corta, lista lunga, giusto per farvi un po' il mapping tra quello che avevamo fatto prima e quello che andremo a fare adesso, ma diciamo che la lunghezza qui non è così determinante come prima. Quindi andremo a controllare il codice, andiamo a vedere come si fa questa cosa. Allora, eccolo qua, il codice di Merch, questo è Merch, ho cambiato qui il nome, ma questo basicamente fa il Merch, quello che facciamo prima. E guardate che non va bene, perché questo alterna un elemento e l'altro, ma alla fine ci restituisce una lista che non è ordinata, capito? Quindi aggiunge 16 e poi aggiunge 9. Quindi qua questi due elementi non sono ordinati. Come facciamo a trasformare il nostro esercizio per risolvere quello che ci dicono nel testo dell'esercizio 4? Per prima dobbiamo creare una nuova variabile per rappresentare la posizione nella lista A. E possiamo andare a creare una nuova variabile per andare a rappresentare la posizione nella lista B. Guardate che questo pezzo qua non ci interessa più. A me non interessa qual è la lista più corta e la lista più lunga. A me interessa conoscere ogni volta la posizione in cui mi trovo ad ogni lista e capire se ho già finito una lista o l'altra. Ma diciamo che per questo esercizio non è importante, non è rilevante sapere qual è la lista più corta e la lista più lunga. Io posso fare così, semplicemente dire che la lista lunga sarà la lista A e la lista corta è la lista B. O posso fare... Ok, quindi la prima cosa è la prima domanda da risolvere per modificare quel programma che avevamo prima. La prima domanda da risolvere è questa qui. Io quante volte devo entrare in questo if, in questo for? Quante volte devo fare... quante iterazioni devo fare per risolvere questo problema? Allora, guardate che qua ogni ciclo, ogni iterazione io posso aggiungere soltanto un elemento ogni volta. E questo cosa mi indica? Questo cosa... Questo mi indica che io devo fare tante iterazioni come elementi ci siano nella lista corta e nella lista lunga. Quindi, in questo caso, guardate che il range sarà uguale a la lunghezza e non proverò a non dire più lista corta e lista lunga, ma sarà uguale alla lunghezza di la lista A più la lunghezza della lista B. Perché io comunque dovrò aggiungere nove elementi nella mia lista finale, in quella che è il ritorno. e ogni volta che... E io posso aggiungere un elemento ogni volta che faccio un nuovo... una nuova iterazione, giusto? Capito? Quindi io andrò a fare questo tante volte come elementi ci siano nella lista A e nella lista B. Somati con gli elementi della lista B. Bene. La prima domanda che io mi faccio sarà se l'indice con cui io andrò a percorrere degli elementi della lista A è ancora... se non ho raggiunto l'ultima posizione, se non ho ancora... se è ancora minore alla posizione, al numero degli elementi della lista A e devo anche fare la stessa domanda per l'indice di B. Questo cosa vuol dire che io mi trovo in una posizione in A e in B Allora, visto che non ho ancora finito di percorrere né la lista A né la lista B, ha ancora senso fare il confronto tra l'elemento in cui mi trovo nella posizione A e l'elemento in cui mi trovo nella posizione B. Giusto? Se io avesse finito una delle due liste, se io avesse già... facciamo... facciamo finta che io avessi già finito questa lista, che qua non fosse sedici, ma... dieci. Quindi, io aggiungo questo, poi aggiungo... sicuramente avrei aggiunto questo, poi avrei aggiunto questo, e poi guardate che a questo punto io ho già finito di percorrere tutta la lista A e quindi mi mancherebbe solo percorrere la lista B. Infatti ci... guardate che per forza sarà così alla fine, no? Perché anche in questo caso, in questo esempio che c'è qui, io andrò a finire prima la lista lunga, andrò a aggiungere tutti gli elementi della lista lunga e poi mi mancherà aggiungere l'ultimo elemento della lista corta. Io andrò a aggiungere tutti gli elementi della lista B e comunque mi mancherà questo elemento della lista A. Solo che quando aggiungo questo non devo fare nessun confronto perché non c'è nessun elemento di questa lista con cui posso ancora fare un confronto perché ho aggiunto già tutti gli elementi nella lista. Questo è quello che voglio dire. Quindi, se io non ho ancora finito di percorrere la lista A e non ho ancora finito di percorrere tutti gli elementi o di aggiungere tutti gli elementi della lista B, allora ha senso fare il confronto tra l'elemento che si trova nella posizione A della lista A e l'elemento che si trova nella posizione B della vista B allora io dico se A non maggiore ma minore se A è minore A allora cosa faccio? Aggiungo altrimenti cosa faccio? Aggiungo lo so allora in questo caso io lo so che l'elemento che si trova nella posizione A della lista A è minore di quello che si trova nella posizione B della lista B e allora aggiungo quello che c'è nella posizione A altrimenti lo so che allora è minore tra i due è quello della lista B e aggiungo quello della lista B e guardate che ogni volta che io aggiungevo un elemento nel risultato nella lista finale cosa facevo subito dopo? Incrementavo la posizione no? Tipo io ho aggiunto questo elemento e poi non mi trovo più nella posizione 0 in questa lista A ma adesso mi trovo nella posizione 1 perché ho già aggiunto questo quindi mi sposto una posizione e è la stessa cosa che andremo a fare qui io dico che la posizione A sarà uguale alla posizione A più 1 e faccio la stessa cosa qui posizione B sarà uguale alla posizione B più 1 quindi aggiungo l'elemento e mi sposto quindi questo primo if ripeto ci rappresenta il caso in cui non ho ancora finito di percorrere o non ho ancora finito di aggiungere tutti gli elementi della posizione A né tutti gli elementi della posizione B e quindi ha senso prima di aggiungere un elemento fare il confronto per capire quale quale di due sia il più piccolo e aggiungere quello lì poi può capitare che io abbia già finito di può darsi che questo non sia il mio caso ma che invece io abbia già finito di percorrere o di aggiungere tutti gli elementi della lista e mi mancano ancora gli elementi della lista B lo facciamo così che io abbia già finito tutti gli elementi della lista B e mi manchino ancora elementi della lista A quindi come saprei se questa è la mia situazione perché in quel caso il programma non entrerebbe in questo if perché anche se questa condizione è vera quest'altra no perché ho già percorso tutti gli elementi aggiunto tutti gli elementi della lista B e quindi non entra in questo if e entrerebbe in questo elif elif si in questo elif nel senso che questa condizione continua ad essere vera io non ho ancora aggiunto tutti gli elementi della lista in quel caso cosa faccio questo che c'è qui aggiungo l'elemento che ci sia della lista in quella posizione lì e incremento la posizione guardate che in questo non mi interessa qual è l'elemento perché ormai lo so che che se tutti gli elementi dell'altra lista sono già stati aggiunti vuol dire che tutti quelli che sono già stati aggiunti erano menori di questi di questo che sto per aggiungere quindi qua non devo fare nessuna verifica non devo fare nessun if semplicemente aggiungo quel quell'elemento e poi potrebbe esserci un'altra un'altra alternativa un altro caso che sarebbe quello in cui mi manca ancora aggiungere elementi della lista B questo era dell'esercizio 1 quindi non ci serve più quindi guardate che questi sono i tre cassi quando non ho ancora aggiunto tutti gli elementi delle due liste e quindi ha senso fare il confronto per capire quale sia il minore tra i due elementi e quando trovo il minore lo aggiungo e incremento la posizione di quella lista la posizione in cui mi trovo in quella lista quindi A o B a seconda dal caso quindi quello è il primo caso poi c'è l'altro caso in cui mi manchino ancora da aggiungere elementi della lista A nel cui caso semplicemente li aggiungo e basta e poi questo else vorrebbe dire che mi mancano ancora elementi della lista B nel cui caso niente li aggiungo e incremento e incremento l'indice questo non ci serve più perché questo era dell'esercizio prima e se non è sbaglio niente questo codice dovrebbe funzionare un attimo controllo post B boh vediamo eh sì guardate che funziona avete visto che questo ad esempio prima non funzionava nel senso che non erano in ordine e adesso questa volta niente sono tutti gli elementi in ordine questo esercizio ci dimostra che noi possiamo partire da qualcosa che abbiamo fatto prima e analizzare in che modo può essere diverso e capire come si può modificare quello che avevamo già fatto prima un esercizio che sia molto simile cosa si può modificare cosa per forza deve essere modificata per riuscire a fare quello che ci chiedono in questo caso cosa dovevamo modificare o di cosa dovevamo avere conto prima questo nel senso che non ci serve lo stesso indice per percorrere le due liste poi che noi dobbiamo fare questo tante volte come elementi ci siano in entrambe liste quindi la somma degli elementi che ci sono nella lista A e quelli che ci sono nella lista B poi questo che vi ho già spiegato penso sia chiaro basta quindi questa è la strategia per risolvere questo quarto esercizio non era molto difficile ma bisogna come vi ho detto sempre bisogna capire prima di andare a fare il codice bisogna capire queste cose bisogna capire la diciamo la strategia bisogna capire diciamo le variabili che ci servono per risolvere questo esercizio quindi scoprire che ci servono questi due indici un po riflettere su quante volte dobbiamo andare a fare quel ciclo e basta quindi fin qua abbiamo l'esercizio quattro ok e niente allora finalmente c'è l'esercizio cinque quello del tic tac to o tris o schiera tutti sappiamo come funziona questo quindi non ci vuole andare a spiegare in profondità come funziona il gioco e questo esercizio allora può sembrare un po lungo nel senso che sì era un po lungo ma in realtà non è molto più difficile a livello di programmazione di algoritmica di quello che abbiamo già fatto no guardate che nell'esercizio del magic square abbiamo già fatto tipo quelle verifiche per capire se per percorrere una diagonale ad esempio anche abbiamo fatto quella per percorrere la colonna per prendere gli elementi che sono nella riga quindi quelle cose più o meno le sappiamo la cosa più importante di questo esercizio era capire queste cose che sono qui era capire come funzionava il gioco e come rappresentare il gioco e come rappresentare questo gioco come codice come un programmino e noi dovevamo capire che tutto il gioco tutta la sì sì tutta la sì tutto il gioco doveva essere messo all'interno di un while di un ciclo perché altrimenti il gioco si ferma e a noi non ci interessa che il gioco si fermi ci interessa che il gioco continui quando finisce il gioco quando usciamo da quel ciclo da quel foro da quel while quando ci sono queste due condizioni quando qualcuno ha vinto quindi qualcuno è riuscito a fare la vincere o quando anche se nessuno ha vinto la scacchiera è piena quindi a quel punto non si può fare altro e niente il gioco è finito ma quindi quello che vi dicevo prima è che la cosa più importante in questo esercizio era capire che ogni volta per ogni mossa che faceva uno dei due giocatori bisognava andare a fare questi tre passi no prima capire chi ha il turno tipo se ha il turno il giocatore uno il giocatore due e cosa dovrebbe essere quale carattere dovrebbe essere messo nella nella scacchiera e basta e poi l'altra cosa che si doveva fare per ogni mossa ogni volta che un un giocatore faceva la sua mossa era quella di modificare diciamo salvare quella modifica e ridisegnare la la scacchiera e bene e anche l'ultima cosa che si faceva era quella di allora visto che questo giocatore ha fatto la sua mossa io controllo se il gioco è finito se con quest'ultima mossa che ha fatto lui ha vinto il gioco o la scacchiera è piena quindi per fare andare questo gioco bisognava sempre all'interno di un ciclo fare questi tre passi se voi siete riusciti a capire che questi erano i tre passi che bisognava fare avete praticamente risolto il problema guardate che nessuna di queste cose è particolarmente difficile tipo determinare chi ha il turno basta con dire che se il primo turno se adesso il turno l'aveva il giocatore uno quindi alla fine del ciclo il turno lo prende il giocatore due si cambia quella variabile lì quella potrebbe essere una variabile booleana perché sono due giocatori quindi qualcosa tipo primo giocatore uguale a true e poi ogni volta che entra la mossa si cambia se true allora false e false allora true e quindi questo non è particolarmente difficile fare questo passo modificare e disegnare la scacchiera neanche perché noi sappiamo come andare ad inserire un valore in una tabella quello sappiamo farlo e disegnarla sappiamo anche farlo perché per disegnarla ci vorrebbe andare a percorrere la la tabella e disegnare quello che c'è ad ogni posizione e determinare se il gioco è finto possiamo anche farlo manualmente perché visto che questa schiacchiera questa tabella questa matrice è così piccola io posso dire allora mi prendo l'elemento per verificare se ad esempio la diagonale mi prendo 001122 o 021120 farla così tipo senza fare il ciclo ma andando a prendere gli elementi con l'indice messo lì nel codice quindi per questo esercizio non andrò a fare tutto il codice ma faccio vedere il codice della soluzione andrò a spiegare quello che ci vuole spiegare non andrò a farlo perché ci mettiamo tantissimo a scrivere tutto come dicevo prima questo è un esercizio lungo ma non particolarmente difficile la cosa difficile importante da capire in questo esercizio è questo pezzo qui se l'avete capito allora guardate quello che vi dicevo questo è la funzione main qua viene inizializzato la viene inizializzata la scacchiera e ad esempio questi qua hanno deciso di rappresentare il turno come una stringa e quindi lo fanno come la stringa il primo valore parte con x ma anche si poteva fare come vi dicevo prima quindi questo primo turno poteva essere un o questo turno potrebbe essere rappresentato come una variabile booleana che parte con false che si chiamasse giocatore 1 o che si chiamasse giocatore 1 e parte con true cambio game over guardate che questi l'hanno rappresentata come infatti come un boolean mi pare non c'era quasi nessun'altra alternativa e guardate come funziona il gioco se il gioco non è ancora finito while not game over cosa faccio la prima sarà cambiare il turno se il turno l'aveva prima no se il turno adesso ce l'ha il giocatore ce l'ha x quindi per la prossima per la prossima interazione il turno l'avrà o sì o altrimenti il turno per la prossima interazione l'avrà x guardate che questo scusate se il turno adesso ce l'ha x quindi faccio lo scambio il turno sarà o e l'opposto ora vediamo come funziona ok quindi vuol dire che la prima mossa in realtà non la fa x ma la fa o o la fa il secondo allora che il primo giocatore sarà o boh niente questo si poteva gestire così o si poteva fare questo scambio dopo di aver fatto la mossa tipo farla così che in questo caso sarebbe come dire se il turno in questa mossa qui l'ha avuto x allora per la prossima interazione allora si cambia e per la prossima volta che si entra qui nel while il turno l'avrà o o viceversa questo diciamo che si poteva fare in questi due moduli questo take turn sarebbe come fare la fare la mossa quello che io vi mettevo come fare la mossa cosa viene passato come parametro per questa per questa per questa funzione viene passato sia la la matrice la tabella con i valori guardate che i valori del gioco sono qui e viene passato a chi corrisponde a chi corrispondeva il il turno e andiamo a vedere come cosa fa questo take turn allora la prima cosa disegna la tabella quindi disegna la tabella vuol dire quella quella che ci entra come parametro e chiede al primo giocatore di fare la sua mossa quindi gioca il giocatore con questa con questo mark si prende la giocata che ha fatto lui e in quella posizione guardate in quella riga e in quella colonna della tabella di quella che è entrata come parametro va e aggiunge la marca aggiunge la la x o la o qualsiasi cosa sia e prima di fare questo fa una verifica verifica aspettate ok input raw input call ok niente qua fa la verifica per capire se quella giocata che se quei valori che ha inserito lui sono giusti e altrimenti continua a chiedere inserire dei valori quindi si ha inserito qualche valore ma non è un valore se non è un valore una mossa valida allora chiede di riprovare niente continuo a fare così questo per disegnare la scacchiera semplicemente si prende quello che entra come parametro che sarà di nuovo la tabella o la matrice e la disegna questo sappiamo come farlo guardate che non fa niente di particolarmente difficile la disegna e poi diciamo che la parte più importante del programma dove il programma riesce a determinare se uno dei giocatori ha vinto viene ogni volta dopo di aver fatto una mossa che è questo quello che succede in questa posizione si verifica se qualcuno ha vinto che questa è un'altra funzione o se la scacchiera è piena che quello si determina con un'altra funzione quindi guardate che questa funzione qui ci restituisce una cosa di tipo booleano giusto e anche questa ci restituisce una cosa di tipo booleano allora se questa funzione game1 da true da true quindi game over diventa true e quando game over diventa true cosa cosa succede il gioco è finito perché non continua a entrare in questo why e non continua a fare questa iterazione che sarebbe questa iterazione qui questo si fa per ogni mossa fin quando qualcuno ha vinto o la scacchiera piena quindi quando uno di questi due di queste due funzioni ci restituisce true game over diventa true e non continua non si continua ad andare avanti con il gioco e guardate che quando qualcuno ha vinto se qualcuno ha vinto allora io cosa faccio vengo e disegno la la scacchiera e un messaggio che dice il giocatore con questo turno ha vinto e guardate che in questo f in questo else io sono sicuro che se il mio programma è diciamo entra in questo allora se il mio programma arriva a questo punto all'arriva catordici sarà perché il gioco è finito giusto perché altrimenti sarebbe sarebbe entrato di nuovo in questo while se non entra più nel while vuol dire che il gioco è finito il gioco può finire per due motivi perché qualcuno ha vinto o perché è piena la schiacchiera e quindi io faccio la domanda qui allora se qualcuno ha vinto se in questo in questa scacchiera così come adesso qualcuno ha vinto qualcuno dei due ha vinto allora stampo il giocatore con questo turno ha vinto altrimenti io lo so che se entra qui il gioco è finito ma non perché uno dei due ha vinto ma perché la schiacchiera è piena perché non c'è nessun'altra alternativa se il gioco non continua era per due motivi e qua il primo motivo era che qualcuno avesse vinto quindi se non se non è questo il motivo allora questo qua sono sicuro che il motivo per cui entra in questo pezzo del programma è perché perché è piena la schiacchiera e quindi si può dire che hanno pareggiato che non c'è stato un vincitore quindi guardate c'è questo is full è piena la schiacchiera e guardate che ritorna true e ritorna una variabile booleana in questa funzione vanno a cercare tutte le posizioni se trovano una posizione in cui c'è ancora che è ancora vuota quindi ritorna false se dopo di aver fatto tutte diciamo questo ciclo annidato non trova nessuna posizione vuota allora sicuro lo sappiamo che la matrice è tutta piena e quindi ritorna true qua per determinare se il gioco è finito o se qualcuno di due ha vinto niente verifica guardate qua verifica le righe e le colonne per un vincitore e poi verifica le diagonali assomiglia a quello che abbiamo fatto con con il Magic Square no? tipo che prima abbiamo fatto la verifica delle righe delle colonne e poi andiamo a fare la verifica delle diagonali in questo caso loro perché ve lo ricordate che in quello che abbiamo fatto noi noi abbiamo detto che la nostra risposta all'inizio sarebbe false No, 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 niente va bene così perché facendo così ricordate che sempre quando viene messo un true il programma diciamo non è il programma ma questo metodo si ferma non continua a fare niente altro quindi quando viene messo questo true in questa all'interno dell'eve e all'interno del for cosa succede? che il programma non continua a provare ad entrare ad un altro if e il programma non continua ad entrare ad un altro for ma semplicemente il return restituisce questo valore e basta si ferma non continua con non continua a fare niente in questa funzione semplicemente restituisce la risposta quindi va bene così nel senso che se determina che c'è qualche condizione o che uno dei giocatori è riuscito a fare la riga o fare la colonna completare la riga o la colonna allora ritorna true e non fa nient'altro se dopo di aver fatto tutte queste domande non ancora ritorna non ancora restituito niente non ancora fatto nessun return quindi lo sappiamo che dobbiamo quindi restituire folge perché nessuna delle condizioni per vincere il gioco è ancora stata raggiunta e quindi niente restituisce folge e basta e poi qua viene questo il metodo per dipingere basta ma ve lo ripeto la cosa che a me in questo in questo esercizio sembrava più importante o più sì più importante la cosa fondamentale era capire come strutturare il programma come strutturare il gioco come andare a dividere sì dividere le responsabilità le responsabilità del programma in diversi tra diversi tra diverse funzioni e poi come far funzionare tutte queste diverse funzioni in questa in questo nel main no tipo guardate che tutto il programma non viene messo in un'unica funzione ma ogni funzione ha un piccolo pezzo una piccola responsabilità e poi la cosa importante per questo esercizio era capire a che punto del programma ognuna di quelle funzioni faceva la sua parte e quindi guardate che questo di andare a fare una mossa era una cosa che si faceva all'interno di un ciclo mentre il gioco non fosse ancora finito e questo game over e questa queste due funzioni erano proprio quelle che mi aiutavano a capire all'interno di quel ciclo che il gioco non era ancora finito e che potevo continuare quindi in questo esercizio la cosa importante era capire come distribuire come assegnare quelle responsabilità e poi come far funzionare quelle funzionalità insieme per riuscire a rappresentare le regole del gioco la logica di questo gioco e quindi bene niente direi che direi che questo è tutto per questo l'app e ovviamente se avete qualche domanda se avete qualche sì se avete qualche domanda sulle soluzioni che abbiamo fatto o che ho fatto in questo video scrivetemi pure su Slack potete inviare un messaggio un direct message e niente volentieri vi rispondo a qualsiasi domanda questo era tutto allora ovviamente sul sito del corso come 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 al solito verrà caricata la soluzione quindi anche lì potete andare a controllare il codice e niente direi che ci vediamo allora giovedì prossimo al laboratorio grazie e ciao buone feste ciao